Il sud è drammatica, drammatica perché non c'è ancora la mentalità, nel senso se vai in un nucleo familiare e ti chiedi, penso, mi immagino una bambina che è la casa a chiedere voglio giocare a calcio, al nord questo potrebbe essere accettabile, anche se è difficile ancora. Il sud è assolutamente inaccettabile perché giocare a calcio è una roba da maschi, questo ti fa capire come mai la situazione è difficile a sud.